ciao a tutti da luca csssssssss bentrovati in un nuovo video di the home to soul dopo la visione di quell'indiano e con tutto quello che è successo nel loro accampamento io proverò a vedere se questa è la strada che la freccia che ci indicava crown l'indiano apparso quando la nostra elen page è andata dentro quel bungalow lì dove sto andando io di qua ah è un posto perfetto vedi qualcosa Aiden? Aiden fa il bravo facciamo sportellate quei muri ma credo che ci sta no maledizione ho trovato qualcosa ok vai 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 questa sembra una spada ah ecco solito infatti ho visto che sera che c'è ? Avanti! Fatti vedere, kalakia! Un'entità? Ha massacrato i soldati del forte? E se fosse Iezo? Hmm. Wow. Oh, oh, oh. Grazie a tutti. L'albero mi è furguto. Devo trovarlo. In verità qua non so che cosa devo cercare. Ma vabbè. Non so che cosa devo cercare. Il posto che c'erano deve essere. Eccolo. Non so che cosa devo cercare. Non so che cosa devo cercare. Dall'entità. Spettri. Indossavano queste maschere rituali. Grazie. Strano. Qui il talisman non c'è. L'ha messo al collo del neonato. Aiutami, Hayden. Devo vedere cosa è successo. Questa è un'immagine. Questa è un'immagine. Questa. Questa è un'immagine. L'allocca. è stato troppo veloce non ho capito è tutto così confuso come se mancasse qualcosa mostrerò il talisman forse lui sa qualcosa diciamo che si infittisce sempre di più il mistero qua di questi indiani e poi tra l'altro se quella è la loro casa ecco di nuovo che avanza la nube tossica col cattivone che sta sopra ancora è giorno come mai cosa è successo è venuto in pieno giorno siamo corsi verso la casa ma come va non va il capo prendi l'auto e trovi ma è morti morti maledizione morti non si accende non si accende la testa è tornata dobbiamo entrare in casa questa proprio non ci voleva non abbiamo altra scelta sai bene che non puoi affrontare uno spirito ma la macchina non posso fare nulla e che posso fare qua la macchina no niente interagire con questa non si può non si può la coperta è quella che aveva quel bambino me la regalò mia madre come sua madre fece con lei e mi fece anche dono di questo il punto del smile è un'esercizio è un'esercizio Qui è cominciato, devo guardare con attenzione, ricordare ogni dettaglio. E ripetisce sempre di più la trama, certo che adesso i pecchi del puzzle si stanno componendo. Quindi questo l'avevano chiamato, questo spirito, l'avevano evocato. Chiamarono lo spirito per uccidere di lui e avere finalmente l'idea. L'attore si rivolto contro, aveva ancora sete ed era sete di sangue. E qui Gieizzo è tornato, è venuto a prendersi le nostre vite. I vostri antenati sono i guardiani che proteggono la casa. Sapevano di aver sbagliato, così sono ritornati per proteggerci dal male che avevano scatenato. Se hanno portato qui l'entità ci dovrà pure essere il modo di rimandarla nel suo mondo. Compirono un rituale per aprire il passaggio. Io ricordo ancora l'incantesimo, ma il rituale è perduto nei tempi. Io l'ho visto. Ho visto il rituale nella mia visione. Lo preparerò io e lei mi aiuterà con l'incantesimo. Fai presto. Sta arrivando. Mufalo. Devo accendere un famo davanti alla mia casa. Dove lo facciamo? Ecco, vieni. Ok, Fiori, devo accendere il fuoco. Questo due ore che inchioda, ancora non ha inchiodato due assi. Da due ore. Ma vedi, bello, muoviti. E se arriva lo spiritello... ...son cacchi tuoi. Jody, ma che fai? Fidati di me! So quello che faccio! Doviamo entrare, la tempesta si sta avvicinando! Lasciala fare, Jay! Shibasani! Hai parlato? Un bastone, Jody! Trova un bastone per tracciare i segni! No! Così non va bene! No! Facciamogli fare un po' di lavoro inutile. Ci ho visto bene, il cerchio, il segno è... Non è nemmeno così! È triangolo, credo. Stiamo a vedere un attimo il disegno che mi ricordo. È X. Ok, perfetto. Sì. È fatto! Ora i talismani! Andiamo a ricordare l'esatta posizione di ogni sciamano! Così! La posizione è giusta! Ok! Ora ognuno di voi deve mettersi vicino a un talismano! Perché ci deve essere un'anima legata a ognuno! Ma noi siamo solo quattro! E i talismani sono cinque! Ci serve una quinta anima per completare il rituale! È una follia, Jody! Moriremo tutti se non entriamo in casa adesso! Cazzo! Cazzo! Ci serve un'altra anima! Aspetta! Ehi, ma certo! Perché non ci ho pensato? Sei tu la quinta anima! Prendi il posto nel cerchio! Ma presto! Io volevo andare a prendere una capra! Cazzo! Ci siamo! Abbiamo le cinque anime! Cazzo! 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 No! Davù! Cazzo! 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 Grazie a tutti. 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 Ho sempre ritenuto il mio dono una maledizione. Iniziavo a pensare che l'avrei usato per aiutare gli altri. Ma questi ultimi giorni hanno dimostrato che non è così. Ehi, non avrai intenzione di fartela avviare. Mi c'è voluto un po', ma sono riuscito a sistemarla. E' un'altra. E' un'altra. la nonna, la nonna, la nonna e il codino. Perfetto. Tutto è bene, ciò che finisce bene. Bene, direi che con questo video ci possiamo salutare qua. e vediamo ora dove andrà la nostra eroina a sbattere la testa. Oddio, Oddio, siamo tornati. in un'altra epoca bella bella che capelli non che ok sto registrando concentrati dimmi se senti qualcosa di particolare riguardo ad alcuni di queste oggetti ok il prossimo video ripartiamo da qua un saluto a tutti da Luca CSS ciao 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 questo è Behon Chusol PS3 capolavoro assoluto giocatevelo assolutamente ciao